Un nuovo affascinante scenario si apre per mafiopoli, che da vera capitale economica e crocevia di interessi gigamiliardari, getta i ponti al di là dell'oceano. Basta con il grigio re metropolitano, il lavoro precario, la mobilità stente, diritti negati, i militari e i poliziotti da ogni angolo della strada, andiamo tutti all'antigua, il paradiso caraibico. Forse aveva questo in mente la nostra amata sindaca quando ha firmato l'accordo con il governo dell'isola. 140 milioni di euro, ufficiosamente perché dati veri sono un segreto, per consentire a una folta schiera di milanesi, armata di ukulele con lana di fiori, di fare bagagli per lasciarsi alle spalle definitivamente la vita di città e dedicarsi alla pesca e allo sport. Nel 2008 è stato siglato un accordo con l'antigua per l'urbanizzazione di quel paese, perché devono pagare i milanesi? Si parla di strutture, anche di ponti aerei, commerciali? E chiede cose che non conosco. Ma sul sito dello paese, sul sito di Antigua c'è, del governo di Antigua c'è? Le domande dal governo di Antigua, io sinceramente non so di che cosa parla. Nella nostra mafiopoli i conti continuano a non quadrare. Mentre soldi svolazzano nelle mete da sogno, tutti quelli che la villa d'antigua non ce l'hanno si devono accontentare. E così i quartieri popolari non cambiano di una virgola, con edifici fatiscenti, nessuna cura dell'ambiente delle strade e la chiusura dei servizi basilari di tutti gli spazi di socialità. Chi potrà godersi le spiagge caraibiche, bene illuminate da centinaia di lampioni regalati dalla Milano dell'Expo, e chi rimarrà senza luce e gas nelle proprie case perché moroso occupante. Chi specula sul territorio e sulle vite delle persone, stuprando la terra, sprecando cemento e tenendo sfitte centinaia di palazzine, e chi non riesce a pagare un affitto, figuriamoci un mutuo. Grazie a tutti i nostri spiaggiani.